I presidi e i dirigenti scolastici potranno accogliere i bambini non vaccinati fino al 31 marzo prossimo. La proroga è stata decisa dall'assessorato regionale alla formazione e dal suo assessore Roberto Lagalla. La decisione presa in comune accordo con l'assessorato alla salute arriva dopo il termine dell'adempimento vaccinale per gli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo scaduto il 10 marzo in tutta Italia. Invece, per conoscere nel dettaglio quanti i bambini non sono stati coperti dai 10 vaccini previsti dal decreto Lorenzin, bisognerà aspettare ancora qualche altro giorno, il tempo che report e cifre passino dai database delle scuole alle ASP e poi agli uffici regionali. Da oggi le porte delle scuole sarebbero dovute rimanere chiuse per gli alunni non in regola con le 10 vaccinazioni obbligatorie, almeno per quelli da 0 a 6 anni, mentre per i più grandi sarebbero dovute scattare le sanzioni a carico dei genitori. L'obiettivo della Regione Sicilia è però quello di rimandare i provvedimenti sanzionatori al fine di consentire un'analisi dei dati sulle vaccinazioni e provvedimenti più mirati. L'isola ha raggiunto una buona copertura vaccinale. Al 31 dicembre 2017 erano 83.400 i soggetti ancora in adempienti, numero che però non tiene conto dei vaccini effettuati negli ultimi due mesi. Intanto, il 14 marzo si terrà la riunione del Comitato Interregionale per la Prevenzione con lo scopo di stabilire una linea comune da adottare. L'ipotesi è quella di prevedere visite famiglia per famiglia, l'invio di uno o due solleciti in caso di mancate vaccinazioni e di modulare le sanzioni da 100 a 500 euro in base al numero di vaccini mancanti. Stiamo chiedendo ai soggetti istituzionali interessati di avere maggiore tolleranza rispetto a provvedimenti diretti ai sanzionatori previsti dalla legge 119 del luglio 2017 fino alla fine del mese, precisa l'assessore Lagalla, per permettere l'aggiornamento e l'incrocio dei dati tra aspe e scuole. In ogni caso, la copertura vaccinale in Sicilia è ad oggi rassicurante, secondo quanto rilevato, dagli ultimi dati disponibili. Pertanto, confidiamo di aggiornare nei prossimi giorni il quadro generale con l'obiettivo di conformare i provvedimenti alle previsioni di legge e alla valutazione della situazione complessiva registrata alla data odierna.